Grazie ai Construction Building Operations, quindi riusciamo ad integrare, a gestire e a supervisionare tutti i sistemi tecnologici presenti in un edificio. Buongiorno, sono Enzo Dino Di Gregorio e sono il responsabile del supporto e della formazione delle soluzioni di Snyder Electric per la gestione del comfort e del clima in un edificio. Oggi vorrei mostrarvi le potenzialità della soluzione Eco Structure Building, che consente ai clienti una visione completa degli ambienti, riunendo gli impianti che gestiscono il clima, la distribuzione elettrica, i quadri di piano, l'illuminazione e tanti altri ancora. Tutti gli impianti sono integrati in una piattaforma comune che massimizza il comfort e l'efficienza dell'edificio, trasformandolo in un vero e proprio Smart Building. Il software Building Operations offre ai gestori delle strutture, agli occupanti e ai proprietari, tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per monitorare e gestire i loro edifici. Pagine grafiche accattivanti consentono una rapida valutazione visiva dell'edificio e dei suoi sistemi. Grazie alla funzione di colorazione delle stanze riesco a stabilire se gli ambienti sono troppo caldi o sono troppo freddi. Quando il set point è soddisfatto, la stanza non risulterà colorata. Anche l'impianto di illuminazione viene rappresentato in pianta dando subito un'indicazione visiva del livello di illuminazione attuale. L'intensità del giallo indica la percentuale di illuminazione artificiale all'interno dell'ambiente. Possiamo inoltre permettere ai dispositivi mobili, come telefono o tablet, di interagire col sistema in diversi modi e a più livelli. Una sala riunioni può essere prenotata direttamente sul posto da un dipendente utilizzando il proprio cellulare. Mediante la scansione del QR code specifico per questo ambiente e delle credenziali base fornite, posso collegarmi al sistema ed effettuare una prenotazione della sala. Inoltre l'occupante può anche leggere i parametri ambientali principali. L'occupante può avere anche il controllo completo dello spazio in cui si trova, mediante la Building Engage App. L'app, mediante un collegamento diretto Bluetooth sul controllore di camera, permette un facile controllo della temperatura ambiente, dell'illuminazione e degli oscuranti. Non solo un singolo ambiente, ma tutto EcoStruxure Building Operation può essere gestito da un dispositivo mobile, poiché il web design è di tipo responsive, cioè si adatterà automaticamente a qualsiasi dimensione ed orientamento. Utilizzando un cellulare, navighiamo attraverso delle dashboard, che sono delle speciali pagine che forniscono un accesso ancora più immediato e semplice alle informazioni. I componenti all'interno delle dashboard vengono chiamati widget. Esistono decine di widget pronti all'uso, che possono visualizzare dati storici o dati in tempo reale. Inoltre è possibile incorporare all'interno delle dashboard informazioni provenienti da altri siti web o creare graficamente dei nuovi widget. Grazie a questi widget possiamo visualizzare le informazioni principali del paletto dell'edificio e del controllo accessi. Possiamo visualizzare il numero di persone presenti nell'edificio tramite un indicatore e visualizzare gli allarmi totali della giornata. Possiamo visualizzare un grafico con l'andamento giornaliero degli allarmi, la potenza elettrica istantanea o la mappa di calore, che fornisce una rappresentazione grafica delle temperature nel tempo. Mediante grafici possiamo verificare l'andamento della temperatura in base ai consumi ed individuare facilmente il modo per migliorare il comfort o i consumi. Infine i grafici periodo su periodo che sono efficaci per controllare le attuali informazioni sull'andamento rispetto ai giorni, mesi o anni precedenti. Le dashboard possono essere configurate in più stili di progettazione, ad esempio in modalità scura o anche in modalità chiara. I widget posizionati all'interno di una singola dashboard si adattano automaticamente alla risoluzione dello schermo e quindi possono essere anche visualizzati comodamente in un PC desktop. I colori e le immagini di sfondo possono essere configurati per integrare il brand di un utente finale. Infine le dashboard possono essere visualizzate in modalità slideshow per essere installate su grandi schermi nelle hall delle grandi aziende. Ringrazio Gionale da Electric per il prezioso contributo e adesso voglio mostrarvi il risultato finale dell'integrazione. Asbima IoT, integrato col BMS Digital Electric, ha consentito di realizzare il vero digital twin dell'opera. In questo caso di studio abbiamo analizzato una costruzione con tre unità immobiliari. Ci siamo concentrati sui dati relativi alla temperatura, all'umidità e ai consumi elettrici all'interno delle tre unità immobiliari. Innanzitutto abbiamo connesso i valori della temperatura direttamente con l'FC Space. In questo modo è possibile visualizzare sul modello i valori della temperatura colorando in maniera diversa i vari vani. Ci siamo poi concentrati sulla parte energetica. Selezionando un quadro è possibile misurare sia la potenza istantanea, sia la tensione che l'energia consumata. Abbiamo avuto anche la possibilità di inviare i comandi a dispositiva IoT, in questo caso un termostato. È possibile variare la temperatura direttamente inviando un comando al BMS che poi a sua volta invia il comando al termostato. Abbiamo visualizzato le informazioni direttamente sul modello utilizzando queste etichette associate a ciascun AFC element. E abbiamo fatto anche una serie di analisi dei dati, soprattutto per quanto riguarda i consumi energetici, quindi grafici e analisi storiche dei dati. Quindi abbiamo ottenuto un risultato veramente significativo, abbiamo dimostrato come l'integrazione di ASBIM IoT, del BIM in particolare, e del BMS, in particolare del BMS Schneider Electric, è in grado di realizzare il vero digital twin dell'opera.